Conferenza stampa a Spoleto di Mirko Gori, kickboxer Spoletino, per la presentazione della prossima sfida che attende l'atleta. Il match è valevole per la conquista del titolo mondiale K1 XFC Professionisti, il suo avversario è il fortissimo fighter brasiliano Marcelo Silva, di 35 anni, con un palmarès di grande rilievo e attualmente detentore del titolo in palio. A 48 anni, dichiara Gori, sarebbe davvero una grande impresa riuscire a conquistare il mio quinto titolo mondiale, nella quinta federazione e nella quinta diversa categoria di peso. Davanti a un gremito pubblico di amici, colleghi, sostenitori e autorità, tra i quali il vice sindaco della città di Spoleto Stefano Lisci, Mirko ha ufficializzato la data di questo che si prevede uno strepitoso match che avrà luogo il 22 ottobre prossimo a Pomezia. Grazie a tutti.